Consultiamo Shelob. Le sue visioni ci aiuteranno. Ci serve l'anello. Sì. Assaggia l'accaio, vai! Arbatto! Ho sbagliato la ganta a quel loco! Sbagliato! 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 Sì, non hai via di puga. Quello che mi serve è una lama nascosta su un po' di sede. Siamo un po' di sede. Siamo un po' di sede Siamo un po' di sede Gollum! E perché mi avresti salvato? Non stavo parlando con te, stupido Remingo! Lui sta lavorando per il ragno. No! No! L'oscura padrona protegge sempre Gollum. Gollum protegge sempre il lucente padrone. Il lucente padrone uccide l'oscuro signore. E il ragno regge le fila. Sauron è nemico di entrambi. E non sempre si possono scegliere gli alleati. Fa strada. Vieni, lucente padrone. Gollum ti mostra una scorciatoia. Quello... Non era un troll. Sono Logai, troll da guerra. Sono più furbi, più veloci e immuni alla luce del sole. Ora le forze di Sauron sono più potenti che mai. Li odiamo tanto quanto quei brutti orchi. Stiamo sempre alla larga per non farci schiacciare e spappolare. Come quando stavi cercando di spappolarmi la testa con una pietra? Ma non l'abbiamo fatto! Non faremo mai del male al lucente signore. Ora rimediamo, sì? Quello resta da vedere. Siamo quasi arrivati. So perché sei qui. Restituisci il mal tolto. Silenzio, Fabbro. Resta al tuo posto. Mal tolto. Mi ha implorato di prenderlo. Cosa vuoi, Talion? Sono qui per Minasithil. Vorresti salvarla. Anche se forse è già perduta. Ci deve essere un modo. Le tue visioni erano vere. Damme ne un'altra. E a che scopo? Per imparare. Per dominare. Oh no, non devi dirmelo. Ecco la verità. Se vuoi fare carriera, allora uccidi. Se vuoi farti notare, uccidi un pelle rosa. Più grosso il bersaglio, più in alto salirai. Idril. Lei morirà. Molti periranno prima che Sauron cada. Saperlo. Può guidare le nostre azioni se uccidiamo l'assassina. Forse questo futuro non si verificherà. Possiamo salvarla. Che lei viva o muoia con onore, le sorti della guerra non cambieranno. È Castamir che va protetto. Se cade vittima dell'assassino, noi perderemo il Palantir. Oh, noi lo troveremo, tesoro. Per il lucente signore. Andiamo a Kiritungal. Sì, troviamo il brutto assassino. Sì, sì.